Allora, prima di riprendere questa seconda parte, io vi leggo velocemente sul giornale di oggi, sul Corriere di oggi, l'attacco, per chiudere tutto il discorso che abbiamo fatto, sulla questione del conclave. In pochissime parole, sulla prima pagina, poi questa parte del giornale, non vi sto a spiegare tutti i tagli, perché, per come, anche perché i giornali hanno una vita, un futuro abbastanza incerto come mezzo di comunicazione, il giornale di carta. Comunque c'è questo attacco, scritto molto molto bene, che dice, il titolo è conclave, accordo sulla data, da martedì si sceglie il Papa. L'attacco del pezzo è questo, raggiunto l'accordo sulla data del conclave, i cardinali elettori entreranno nella Cappella Sistina martedì 12 marzo e ne usciranno con il nome del nuovo pontefice, successore di Benedetto XVI al sogno di Pietro. La curia intanto ha stabilito un'intesa con il gruppo dei porporati americani, uno dei favoriti tra i papabili, e l'arcivescovo di Milano, Angelo Scola. Punto. Cioè, tu leggi questo, capisci di che si parla, ci sono gli americani, tutta la storia che avete visto in televisione, c'è il papabile pure, tutta la questione, ti dicono subito loro chi hanno individuato, e ti dicono subito le date, dove si fa, eccetera, eccetera. C'è tutto. E poi non ci sono paroloni, non ci sono, trovate giusto porporati cose per non ripetere cardinali e cose del genere, però lineare. La presentazione è andata via e va bene così, perché non ci serve, no, non ci serve, non ci serve per il momento forse, sì, ci servirà. Qui c'è una parte che faremo la prossima volta, a questo punto, perché è un po' più lunga, no, lunga, a questo punto è un po' più noiosa. Adesso faremo un'altra cosa, che riguarda un po' qualche dritta sulle leggi, perché una cosa importante è che quando, questo riguarda più che il comunicato stampa, anche se anche quello è importante, inviato mia mail, soprattutto i siti internet, quando si scrive qualcosa, non è che se siete i titolari di un blog potete scrivere quello che vi pare. Non si può fare, cioè io non posso scrivere peste e corna di una persona su un blog, perché il mio blog sono le mie opinioni, sono le tue opinioni, ti prendi la responsabilità di quello che dici. È capitato, poi lo vedremo in seguito, ultimamente il proprietario di questo blog, che a Roma, a Cartellopoli, a Roma denunciava l'invasione dei cartelloni pubblicitari, facevano fotografie, li pubblicavano su internet e dicevano guardate questo cartellone è abusivo, faceva anche un servizio buono per la città, perché a Roma comunque è sentito come problema. Il problema è che è stato denunciato da parte di una compagnia, di un'agenzia di comunicazione, proprietaria di alcuni di questi cartelloni, ed è stato condannato, se non sbaglio andiamo a vedere, e questo è un blog, è un blog a nove mesi di carcere e ha una multa di 20.000 euro. Quindi è per una cosa che non ha fatto neanche lui. Erano fotografie di cartelloni inviate da un lettore, lui le ha prese e le ha pubblicate. Ora non so se le ha prese direttamente lui, oppure era nel forum gestito da lui, eccetera, eccetera. Comunque era un materiale proveniente da una terza persona, finita sul suo blog di cui lui era responsabile, e in primo grado è stato condannato a nove mesi e al pagamento di 20.000 euro. Ora, che cosa significa? Che nei cinque minuti che perdiamo a rileggere il testo, dobbiamo fare attenzione. Se diciamo una cosa, ne dobbiamo essere certi. Se facciamo un comunicato contro Tizia e Caio, se facciamo un comunicato con delle dichiarazioni forti, io per esempio, la regola principale quando si ha a che fare con personaggi politici o cose del genere, anche a livello comunale, se fate un'intervista al sindaco, registratela. Cioè ce la avete le cose dietro, non prendete due appunti o scrivete, oppure non dice una cosa forte, mettete il virgolettato di quello che ha detto esattamente. Tanto se è forte, più forte di quello non c'è. Però mantenete la registrazione, così nel caso in cui la registrazione ovviamente non deve essere nascosta, deve essere con l'autorizzazione, perché se no non ve ne fate nulla di quella registrazione. Da prima di un'intervista, io la registro. Poi, quando magari dice una cosa forte Tizio e Caio, vi fermate e dite è convinto di questa cosa che dice, gli ripetete la domanda. Se voi stanno dicendo una cosa importante, mi può ripetere questa cosa? Me la spiega meglio? Gliela fate ripetere, se secondo me è una cosa pesante. Dopodiché avete la registrazione, vi prendete le vostre responsabilità, se volete pubblicarlo o meno, se scrivete su un giornale locale, il direttore sceglierà se è opportuno o meno farlo, tutte queste cose qui. Però voi comunque dovete essere precisi, accurati. Prima dicevamo nell'ABC, la prima cosa è l'accuratezza. Non si possono scrivere, pubblicare cose così. E poi un'altra cosa è che a livello locale è molto più facile beccare querele, perché a livello locale, la stampa locale è avvertita, è letta con maggiore interesse, ma è anche avvertita come un pericolo. A livello nazionale, se un nome finisce in un mensile, in un'inchiesta, magari nel paesino dicono sì, vabbè, è finito, e chissà quanti l'avranno letta, ma il giornale locale è sempre al centro della scena politica del paese, per esempio, e le guerre le sono. È molto più facile prenderle così che lavorando in un contesto nazionale. In contesto nazionale pure ce ne sono. Comunque su queste cose qui, sui limiti, sulle leggi, così ne parleremo dopo, perché comunque nel momento in cui io esprimo un'opinione e ho la libertà di farlo in Italia, devo comunque sapere che ci sono delle regole. Ci sono delle regole per pubblicare, per tenere un blog, per fare uno stampato, per farlo girare per strada, uno stampato così. Ci sono delle regole. Non ci sono dei limiti, non siamo nel fascismo, però basta rispettare le regole, così non hai problemi. Questa è una cosa fondamentale. Ora, io direi di passare però dalle parole ai fatti, alla pratica. Adesso ci dividiamo in piccoli gruppetti e faremo un lavoro, farete un lavoro e poi lo confronteremo insieme. Semplice, non staremo tutta la notte a ragionare su un testo. Magari o in gruppi di due o tre, vediamo un pochettino quanti ne siamo, io vi distribuisco un testo. Vi spiego, vi faccio pure, vi anticipo di che cosa si tratta, vi spiego il contesto, però è sostanzialmente quello che fa un sito internet, è sostanzialmente quello che farete adesso in piccolo. Un ufficio stampa, ragionerete su una cosa per abbozzare un comunicato stampa. Comunicato oppure un qualcosa da pubblicare su un sito internet vostro che si occupa di questa cosa qua. Qualche giorno fa quattro associazioni di cui tre internazionali che sono Amnesty International, European Roma Rights Center e Open Society, più un'associazione locale però è anche nazionale, cioè ha sede a Roma però si occupa a livello nazionale di Roma. Parliamo di questa cosa. Io lavoro nell'agenzia di stampa redattore sociale, è un'agenzia di stampa nazionale, l'unica che si occupa soltanto di questioni sociali. È uscito qualche giorno fa e ho pensato che era perfetto per questo momento. Hanno pubblicato una lettera ufficiale indirizzata al sindaco di Roma, al vice sindaco, all'assessore alle politiche della casa di Roma, eccetera, eccetera, in cui dicevano alcune cose. Sostanzialmente che cosa è successo a Roma in questo caso? A Roma il problema dei rom, dei sinti, dei camminanti è molto sentito perché ci sono diversi campi in cui vivono nella periferia di Roma parecchie, diverse migliaia di Roma. È un problema sentito perché è unico in Italia come concentrazione a Milano, Torino, i numeri sono molto minori, mentre a Roma è molto sentito e ci sono il comune allestito proprio dei villaggi attrezzati, tra virgolette, dove ci sono dei container, dove in ogni container c'è una famiglia che ci vive, hanno l'acqua, l'elettricità, però su queste cose ci sono tutta una serie di problemi, di critiche da parte delle associazioni, i villaggi attrezzati, i posti per le periferie della città sono discriminatori, insomma, ci sono tutta una serie di problemi. Che cosa è successo nell'ultimo tempo, negli ultimi tempi? Che il comune di Roma ha emesso un bando per le case popolari, sostanzialmente, dette così, che si dice in un altro modo, precisamente, poi lo vedremo, e bando generale di concorso per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono le case popolari. Case popolari, a Roma altro problema sentito è il problema della casa, ci sono diversi stabili occupati da famiglie che non hanno casa, quindi si aspettava anche da tempo questo bando delle case popolari per presentare la domanda e sperare appunto di avere una casa popolare. Che cosa è successo? Che in questo bando, secondo alcune associazioni, questo bando dà la possibilità anche ai Rom di partecipare. C'è anche da dire che molti Rom sono anche italiani. Ora, non sto qui a soffermarmi su questo tema, però, si parla appunto di residenti a Roma, si parla di persone che hanno difficoltà abitative e in questo caso, in questo bando, secondo alcune associazioni, rientrano anche i Rom. Ora, in un contesto come quello romano, questa cosa, soprattutto con un'amministrazione di un certo tipo, cioè quella di Alemanno che ha sempre detto, ha impostato il piano nomadi in un certo modo, eccetera, eccetera, dare le case popolari ai Rom, come diceva qualcuno, potrebbe far creare delle tensioni in città, però, secondo queste associazioni, il bando dice questo, cioè, secondo il bando, le famiglie Rom possono presentare domanda ed entrare in graduatoria, perché vivono nelle baracche, nei container, e lo possono fare. Allora, che cosa è successo? Il Comune di Roma ha subito smentito la cosa, ha mandato una direttiva dicendo, non una direttiva, una deliberazione, insomma, un testo in cui raddrezzava il tiro dicendo che non era proprio così, le dichiarazioni dei politici dicevano, no, ma i Rom non rientrano, i Rom che abitano nei villaggi attrezzati non rientrano nei destinatari di questo bando, eccetera, eccetera. Allora, dopo tutto questo, queste associazioni, tra cui Amnesty International, che credo conosciate un po' tutti, scrivono una lettera a, vi dicevo, al sindaco Alemanno, al vice sindaco Belviso e all'assessore delle politiche della casa. Scrivono questa lettera in cui dicono delle cose, spiegano le ragioni di una loro preoccupazione riguardo a questo tema che vi ho detto. Ora, questa lettera che è abbastanza lunga spiega tutta una serie di cose, avanza delle richieste, fa tutta una serie di cose. Ora, quando un'associazione o un insieme di associazioni si trova davanti a questo, allora il presidente di un'associazione decide di fare una lettera, dice, io scriverò al sindaco perché ho da dirgli queste cose. In questo caso sono quattro presidenti, si mettono insieme e scrivono una lettera. La lettera finisce sul banco dell'addetto stampa e gli dicono, tiè, ora diffondi questa lettera. E l'addetto stampa prende la lettera e fa, eh, allora, questo è il primo commento in realtà. Poi però deve fare di questa pagina una pagina sola, di queste quattro pagine una pagina sola in cui ci sia tutta la ciccia della questione e tutto il resto. Ora, quello che vi chiedo io di fare adesso è non di scrivere un comunicato stampa perché se no ce ne andiamo domani mattina qua, non so se ci sono i letti, ma di almeno se non scrivere cinque righe, se non scrivere cinque righe, la cosa migliore sarebbe l'obiettivo auspicabile è quello che di riuscire a fare dividendovi in gruppetti così ne potete parlare, di individuare e di scrivere l'attacco del pezzo, del comunicato. Quindi ci deve essere tutto. La questione, chi la scrive, perché la scrive, a chi l'ha scritta, cioè tutte queste cose qui vanno scritte in cinque righe, vi prendete un po' di tempo, magari non so, una mezz'oretta, vediamo un pochettino passo passo quanto tempo, io sarò qui per qualsiasi cosa, insomma, lo vediamo insieme, oppure se non riuscite magari a scrivere, la cosa migliore dividendovi in gruppetti è che una persona scrive e tutti quanti ne parlate insieme, oppure di individuare almeno come, insomma, avere un'idea di come presentare questo attacco. Quindi l'attacco, le prime cinque righe, non mi dovete scrivere tutto, mi dovete scrivere le cose essenziali che ci sono scritte in questo, in questa lettera. Come se io fossi il presidente di una di queste associazioni e una volta arrivati nel vostro ufficio, dietro la vostra scrivania, io dico buongiorno, è che ho fatto oggi e adesso mi serve un comunicato stampa entro dieci minuti. Non dieci minuti, però. Allora, io adesso ve li distribuisco, così ve li leggete. Quanti ne sono? Ce la facciamo a distribuire in una testa? Ok. Una cosa che vi dico è che nella prima pagina c'è una nota enorme. questa cosa è fatta in una lettera, in un comunicato stampa, una cosa del genere, non deve esserci. Se no... Esatto. Esatto. Allora, io adesso ve li distribuisco, così... Vi prendete il tempo per leggere. Il contesto... Allora, se ci sono problemi col contesto, se non avete capito qualcosa, se non lo conoscete, eccetera, eccetera, ditemi tutto che ne parliamo insieme, così evitiamo di stare ore e ore su... Anche i fogli, le penne, fogli e penne, fogli di carta. Oh, sono esatti. Ci vanno tutti? Sì, no, sì, ma... stiamo aspettando loro. Ragazzi, due giornali già sono usciti con la notizia, eh. Sì, noi siamo geni di... Ah, siamo solo una settimana qui. Sì, c'è la corsa c'è la corsa alla notizia. ti serve, ti serve e quindi lì sono servizi professionali, sono molto professionali, quindi lì devi sapere che cosa fare, spostare capitali da una parte all'altra nel giro di pochi secondi, quindi è importantissimo. la corsa però su cui... non è molto legale, se vogliamo. No, no, è legale. Allora, quando una notizia c'è ed è pubblica, allora tu paghi un servizio a un'agenzia che ti fornisce un contenuto più velocemente di tutte le altre ed è legale. Quello che non è legale è l'aggiottaggio all'insider trading che sono informazioni riservate per modificare l'andamento dei mercati, cioè sono questi due reati... Sì, 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 sì. Sono su un po' di casieri che non sono... Sì, sì, sì. Le informazioni riservate e poi utilizzare le informazioni per generare un andamento particolare del mercato oppure utilizzare informazioni riservate a pro e magari diffondere notizie false con propri interessi, questi sono reati proprio. Se tu paghi per avere delle informazioni note, nel senso se tu vuoi avere informazioni sulle banche, su titoli di stati, cose tutte pubbliche, però le vuoi sapere prima degli altri, appena magari viene messo il timbro su una carta, se c'è un'agenzia che riesce a farlo prima degli altri e ti fa un servizio che è legale, lo paghi, insomma. Ci siete lì in fondo? Sì. Dai, va bene, l'importante è aver ragionato sulla cosa e poi sentiamo gli altri. va bene. Allora, iniziamo da quelli più prossimi, iniziamo da voi e vediamo un po' che cosa avete individuato. Allora, le associazioni Amnesty International, ERC, Open Society, Justice Initiative e Associazione 21 Luglio contestano con una lettera datata 27 febbraio la circolare del 18 gennaio concernente il bando di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in quanto discriminatoria nei confronti di Roma. Gestino? Ok. E poi una versione più light. Sì, e poi vi faccio subito un commento e passiamo all'altra. La versione più light è più o meno chiara la posizione con una lettera del 27 febbraio delle quattro associazioni tal detali riguardo al bando di assegnazione di alloggi pubblici del Comune di Roma 2013. Precludere la possibilità ai Rom di usufruire degli alloggi può essere un grave atto discriminatorio. Ok. Allora, vi faccio un commento immediato a questa cosa. Parto dall'ultimo. Leggi l'ultima frase. Allora, due approcci è molto diverso, Sì. Quello è un po' più d'ufficio stampa e questo è un po' più d'ufficio stampa. Allora, l'ultima frase che hai messo Precludere la possibilità ai Rom di usufruire degli alloggi può essere un grave atto discriminatorio. Questo è l'attacco. Tu l'hai messo alla fine. Ah, ok. Questo l'ho messo prima. Precludere l'alloggio alle case popolari è un grave atto discriminatorio. Punto. Chi l'ha detto l'ha detto. Ti fai in una lettera inviata a eccetera eccetera. Quella lì contiene tutto il succo. Che l'hai messo prima. Mentre l'altra cosa, l'altro che hai letto tu, è più istituzionale, però ti sei resa conto anche tu leggendolo che è difficile da leggere. È troppo particolareggiato. Cioè ci sono troppi particolari è vero che è più istituzionale, quindi è più preciso, però l'hai visto pure tu leggendolo che era difficile da leggere. La lettera data X del Bando X è difficile. si, 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 però bisogna avere un linguaggio chiaro. Poi, quando aggiungi dopo, gli dici che la direttiva numero X gli spieghi il nome del Bando interamente, tra le virgolette, gli dici il Bando si chiama Bando per l'assegnazione sopra ci metti case popolari. Però, diciamo, nell'attacco bisogna essere chiari senza eccedere nei particolari. perché, ti ho detto, hai visto pure tu leggendolo, l'hai letto a alta voce, hai visto una difficoltà. Cioè, proprio nel dire tutto in fila a quelle cose. Nell'altro caso, invece, l'attacco è stato spostato in fondo proprio perché magari si è ritenuto prima a rispondere, l'ansia di rispondere alle domande. Lui dopo di dire subito chi? Subito cosa? No, la ciccia qual è? Era la cosa messa alla fine. L'ordine non è questo qui, eh. Cioè, queste sono le cose da dire. La ciccia va prima di tutto. Altri? Anche noi abbiamo elaborato due idee. Siamo un giornale prettamente scandalistico per cui abbiamo puntato a creare subito il caso. E abbiamo... In questa prima elaborazione abbiamo titolo e attacco. E l'attacco effettivamente dice determina un trattamento discriminatorio nei confronti dei circa 3.600 Rom residenti nei villaggi attrezzati di Roma la circolare del 28... Non è il titolo, eh, Lago? Esagerate, vai. La circolare del... Della tale data del Dipartimento Politiche Abitative del Comune di Roma. Il titolo era Preoccupazione per la circolare del 18 gennaio del Dipartimento delle Politiche... Però abbiamo anche un'altra versione che era l'altra. Non ci piace. Stasera la Sicena. La versione non scritta, ovviamente, è stata quella che in seguito alla pubblicazione del bando per l'assegnazione delle case popolari a... Com'era? Del... 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 E in seguito alle dichiarazioni delle istituzioni pubbliche di Roma Capitale le quattro associazioni in questione hanno... Com'era? Aiutaci. Reputano. Reputano, sì, un trattamento discriminatorio per i cittadini Roma. Va bene, parto da te. In seguito a... In seguito a... Alla fine vado a... Ma... Ma... Poi pubblicità. E poi c'è la notizia. Allora, perché in seguito? Cioè, tu mi attacchi una... Inizia a parlare di una cosa con... In seguito a... Cioè, questa è una cosa molto da... Come dire... Approfondimento di quello che c'è dopo. Cioè, i dettagli. In seguito a... Tizio, ho detto... La ciccia qual è? Tu l'hai detta alla fine. E tu, magari, puoi dire la questione è questa. Lo hanno reso noto, l'hanno fatto sapere queste quattro organizzazioni in seguito a... Eccetera, eccetera. Quindi, l'organizzazione della frase è un po' di questo tipo. Cioè, non partire subito con una cosa noiosa. In seguito a... In seguito... Cioè, poi me l'hai detto due volte in seguito. Io sono cattivo, eh. Sono cattivo, però è utile, è utile per capire. Non parliamo della versione di Tony Augello. Ne leggi la prima parola? La prima parola. Determina. Determina. Ma c'è... Questa cosa qua. non vuole. Questa cosa qui è un approccio molto giuridico. E' un approccio molto giuridico, non giornalistico. Quell'attacco è giuridico. Cioè, determina... Cioè, il deter... Cioè, è una parola pesante. Determina. Cioè, è una parola pesante. Cioè, vedete come... Come poi, se lo ascoltate... Magari, vedete la differenza. Tony l'ha scritto, l'ha pensato, ha detto va bene. Noi l'abbiamo sentito. Appena ha detto determina. Determina. Cioè, si sente. È una cosa chiara. Cioè, per questo uno deve pensare. Ma è chiaro per gli altri. È di facile comprensione. Cioè, è... Subito... Ha un impatto diretto con la persona che lo legge. Con tutti. Questa è la cosa. Passiamo il microfono all'ultimo gruppo. Che hanno avuto tutto il tempo di sentire. No, no, eravamo presi. Stiamo leggendo. Allora, noi ci abbiamo messo la data sopra a 9-3-2013. Attenzione. Abbiamo cominciato dicendo, scrivendo. Alcune associazioni operanti nella difesa dei diritti umani, quali Amnesty International, tutto l'elenco, non lo sto a dire, si sono rivolte con una lettera al Comune di Roma chiedendo che vengano adottate misure necessarie a garantire l'accesso equo al Bando Generale del 31-12-2012 riguardante l'assegnazione di alloggi popolari anche ai residenti rom ai cittadini anche ai rom residenti nei villaggi attrezzati della capitale. Si è capito qualcosa? No, devo ripetere. Questo qui è un comunicato stampa buono dell'associazione. Fatto da un'associazione chiaro non ha un'organizzazione del testo da notizia da notizia di giornale non ha un'organizzazione da notizia di giornale su cui il Comune dice no ai rom cose del genere però dice chiaramente tutto poi mette la data all'inizio oppure magari si mette Roma virgola con la data va benissimo Roma lì è Bruxelles tra l'altro non è manco Roma della lettera sì non ho capito Bruxelles sì sì è Bruxelles della lettera quindi come comunicato di un ufficio stampa va benissimo ci vuole mettere San Gianni Rodondo perché la stiamo parlando qua San Gianni Rodondo no ma questo va bene è lineare è chiaro cioè gli alloggi popolari avete messo le date non ci sono paroloni non ci sono determinismi determina forse perete un po' le lunghe lo so no no va bene va bene tutto sommato per il tempo che avete avuto a disposizione va benissimo abbiamo visto due cose che vanno molto bene che sono uno un approccio d'ufficio stampa e uno invece quello dal punto di vista giornalistico visto in questo modo ora per concludere voi ne avete un altro era solo questo unico ah dopo il complimento no se volete potete leggerli così da 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 Mariano legge il tuo va bene va bene allora io direi per concludere il microfono magari lo prendiamo non so se volete aggiungere qualcosa se avete qualcosa da dire su visto che comunque è abbastanza tardi per concludere facciamo una bella cosa la bella cosa è questa qui andiamo a vedere il comunicato stampa ufficiale di Amnesty International e delle organizzazioni e come è stata scritta una notizia da un giornale locale su questa questa cosa allora loro qui fanno un titolo enorme vabbè lo vedete quattro organizzazioni per i diritti umani non scrivono manco chi sono scrivono al sindaco Alemanno il comune di Roma vuole negare alle comunità Rom l'accesso ai casi popolari violando la legislazione in materia di discriminazione è lunghissimo il titolo è lunghissimo però sostanzialmente vedete poi l'attacco Amnesty International associazione centro europeo eccetera eccetera scritto in lungo tra parentesi ERRC guardate la prima maiuscola e le altre tutte in minuscolo Open Society Foundation hanno inviato una lettera alle autorità di Roma la lettera evidenzia come la volontà espressa con la circolare di negare l'accesso alle case popolari violi il diritto internazionale allora loro mettono in primo piano la violazione del diritto internazionale come quest'atto viola il diritto internazionale quindi questo è il comunicato stampa che hanno fatto loro non è a mio parere non è perfetto diciamo poteva essere fatto poteva essere limato ancora di più però vi dà idea di come un'organizzazione come Amnesty International e altre hanno trattato questa lettera su cui voi avete lavorato quindi potete anche confrontare il vostro modo di vedere e ragionare sulle cose l'altra cosa infine è come ha trattato la notizia un giornale locale di Roma che è abbastanza famoso poi anche su questa almeno nel contesto di Roma che si chiama Paese Sera e vi faccio vedere il titolo è Rom negare l'accesso al caso popolare viola leggi internazionali questo è il titolo organizzazione del testo guardate com'è allora mettono un sottotitolo tweet consigli eccetera eccetera la fotografia legata al tema con il logo di una delle associazioni quattro associazioni tra parentesi scrivono ad Alemanno Belviso e Funari per chiedere accesso equo al bando per gli alloggi di edilizia popolare anche per le famiglie che vivono nei campi leggi la lettera tutti i link che possono ricollegare a questioni quindi link ci sono subito i link prima del testo poi c'è il testo che dice basta discriminazione un alloggio adeguato anche ai Rom punto e poi dice a chiederlo è la comunità europea qui loro fanno un'elaborazione anche particolare cioè dice non lo chiedono le associazioni lo chiede la comunità europea le associazioni e la lettera dicono che a chiedere questa cosa è la comunità europea allora loro fanno un passaggio in più diciamo nell'elaborazione che dicono guardate che loro ce l'hanno segnalato però a chi lo chiede è la comunità europea che nella lettera c'è dato il principio oppure qui è un po' diciamo molto complesso non è un vero e proprio attacco fatto per bene però diciamo un concetto che quattro associazioni eccetera eccetera ribadiscono al sindaco con le mani in una lettera recapitata nei giorni scorsi perché c'è la data il comunicato stampa è uscito qualche giorno dopo quindi loro l'hanno ricevuta dopo qualche giorno ed è arrivata questa qui eccetera eccetera la questione è quella delle case popolari che da poche settimane che poche settimane fa aveva sollevato non poche polemiche punto e poi continua il pasticcio del bando e vi da nuovi dettagli sulla questione le contraddizioni la fine della segregazione etnica e le richieste al comune cioè guardate l'organizzazione del testo la ciccia sopra chi lo fa chi lo dice a chi lo dice tutto il contesto dopodiché tutto a seguire ed infine come informazioni finali queste sono le informazioni le richieste che fanno al comune tutto parte da quella lettera che avete avuto ora vi ho dato un quadro chiaro sintetico di quello che è il passaggio proprio da un testo da una lettera da un documento ufficiale a un comunicato stampa a una notizia e voi devo dire che vi siete comportati egregiamente tranne mio fratello determina grazie a tutti